Riprendiamo la lettura di Gotrk e Feryx, Troll Slayer, sangue di troll da dove c'eravamo abbandonati l'ultima volta, pagina 212, iniziamo riprendendo questa epica avventura nel vecchio mondo. Justin attraversò con passo militare le schiere dei seguaci e si assise sul trono di legno scolpito. Quindi, posata la nuda spada sulle ginocchia, sostenne il confronto dei Gor, i più forti dei suoi gregari. La spada era per tutti un ammemento del suo metodo di governo, un chiaro simbolo del suo potere. Godeva del favore della loro divinità demoniaca e la sua forza ne era la manifestazione concreta. Volenti o nolenti, gli uomini bestia avrebbero dovuto accettarlo finché uno di loro non fosse riuscito a sconfiggerla in singola artenzone, come previsto dal loro primitivo codice d'onore. Tuttavia, nessuno che fosse dotato di un minimo di sale in zucca l'avrebbe sfidata. Erano tutti al corrente della profezia di Kazakital, pronunciata quando Justin era stata elevata al rango di guerriero del caos. Conoscevano tutti le parole del demone. Nessun guerriero l'avrebbe mai vinta in battaglia, e tutti avevano potuto comprovare la veridicità della profezia. Ma erano pur sempre uomini bestia, e sfidare il capobranco era iscritto nei loro geni. Justin quasi si augurava che quella notte qualcuno le lanciasse la sfida. La brama di sangue scorreva impetuosa in lei, come sempre avveniva dopo che era rimasta al cospetto del suo patrono. Gli ed è quindi un'occhiata all'oggetto su cui giacevano gli uomini bestia. Una razza enorme che ricordava un tempo aveva occupato un'intera parete. Raffigurava episodi di una guerra di caccia tratti dalla storia della famiglia Klein. Ormai era insozzato di fango, ricoperto di foglie morte cadute sulla radura della foresta, e dal sudiciume degli escrementi degli uomini bestia. Avrebbe dato ordine di bruciarlo. Non voleva che rimanesse nemmeno un ricordo della famiglia Klein. Vedere i corpi possenti e le teste ferine dei seguaci seduti scomposatamente sull'oggetto più caro a Lord Klein, le rammentava quanto fosse cambiata la sua esistenza da quella mattina funesta, in cui era scappata dalla camera di Hugo, per rifugiarsi nel folto del bosco. La scena che adesso le si presentava agli occhi, pareva uscita dalle tetre acqueforti di Teugen, il folle pittore. Animali in armatura dalle corna possenti si azziravano tra gli alberi deformi, nella semioscurità della foresta. Erano simili a una grottesca caricatura dell'ideale cavalleresco, un sovvertimento dell'ordine della natura. Quasi le belve silvestri fossero insorte per soppiantare l'imberbe genere umano, come un giorno sarebbe effettivamente successo. I servi del caos avrebbero gettato nella polvere tutti i reami degli uomini. Justine non aveva fatto che un primo passo, e tutto sarebbe seguito. Man mano che la notizia delle sue vittorie si fosse diffusa, un numero crescente di servi del caos sarebbe accorso sotto il suo vessillo. In breve tempo avrebbe avuto a disposizione un potente esercito, e tutte le forze dell'impero avrebbero tremato di terrore. Per qualche oscura ragione, la prospettiva non le emozionava più come in passato. Contrariata, allontanò quel pensiero dalla mente. Fissando i comandanti del futuro esercito, si chiese quali ordini dovesse dare. Il suo sguardo inquisitorio vagò sui loro volti, e si domandò quando e da chi sarebbe stata lanciata la disfida al suo comando. Poteva essere chiunque, erano tutti Gor, la specie di uomini bestia più grossa, forzuta e sfrenatamente ambiziosa. Notò la posa pretenziosa di Hagal, le corna caprine, ricoperte d'oro brunito, il vello dorato e fulgente che risplendeva la luce del fuoco. Tra tutte le bestie che la seguivano, lo riteneva il candidato più plausibile alla sfida, alla chiamata del cozzo delle corna. I suoi informatori le avevano riferito che era proprio lui a lamentarsi a voce più alta tra i fuochi da campo, sostenendo che fosse contro natura avere un capobranco femmina. Era il più scontroso e contestava sempre i suoi ordini, ma mai al punto tale da costringerla a dare corso alla sfida. Per ora, comunque, la tendeva al varco in attesa di un possibile cedimento. Sapeva che, se fossero giunti alle armi, l'avrebbe sconfitto. Contro l'Urgar era meno certa di vincere, non fosse stato per la profezia. In battaglia, il grande minotauro dal manto fulvo era il più spietato dei guerrieri, un berserker sanguinario la cui sete di massacri era inferiore soltanto alla sua fame di carne umana. Quando il furore guerriesco lo possedeva, diventava un combattente micidiale. Justin temeva quasi che la sfida aggiungesse da lui, ma lo riteneva improbabile, a meno che qualcuno non l'avesse instigato a farlo. Il minotauro era troppo stupido per nutrire grandi ambizioni, e si contentava di seguire qualsiasi capobranco che gli assicurasse nemici da uccidere e cibo da mangiare. Gregario per natura sarebbe stato un perfetto burattino da manovrare. Dietro di lui sedeva un uomo bestia che evidentemente la pensava allo stesso modo, Grind, il vecchio sciamano. Nonostante la sua natura, Grind era intelligente, possedeva una bietta scaltrezza e una cospicua dose di quella che tra i contaminati dalla warpietra veniva considerata cultura. Era in grado di vaticinare il futuro leggendo le ossa, di parlare con gli spiriti e intercedere presso le forze perniciose. Prima che Giustin prendesse il potere, era stato lui a offrire sacrifici al principe demone Kazakital. Tuttavia, il grasso minotauro dalla Nivea criniera era ormai troppo anziano per concepire molti figli nel corso della grande fregola, e pertanto non poteva diventare il capitano del manipolo di guerra. Giustin sapeva però che questo non gli impediva di provare rancore nei suoi confronti, perché gli aveva sottratto il ruolo di guida spirituale della tribù, o semplicemente di odiarla in quanto femmina. Giustin non poteva permettersi di sottovalutarlo, nemmeno in questo era certa. Lo sciamano aveva il cuore colmo di fiele e di malvagità, e le sue parole avevano un ascendente su molti dei graduati e sulla truppa del suo esercito. Ciao S.G., un saluto al volo, ti saluto anch'io al volo. Triel, l'orbo, non costituiva una vera minaccia. Era un valoroso guerriero, di spessore eroico, ma profondamente segnato dalla war pietra. Non aveva occhi, eppure vedeva bene come chiunque altro. Avendo ricevuto il marchio del caos, nutriva grande paura nei confronti di Giustin, che riteneva godesse di un favore particolare presso gli dèi. Viveva soltanto per uccidere e aggiungere nuovi occhi alla sua collezione. Poi c'era Malor Bigiacriniera, il cui padre era stato ucciso da Giustin per assumere il comando dell'orda. Se il cucciolo provava risentimento, lo dissimulava bene. Seguiva i suoi ordini alla lettera, si batteva con coraggio e dimostrava di avere buon senso. Spesso proponeva piani che si rivelavano migliori di quelli dei capoguerra che avevano il doppio dei suoi anni. Pur non avendo ancora raggiunto il massimo vigore della giovinezza, era già un grande guerriero. Malor non si curava delle lamentere degli altri, convinti che fosse un membro del consiglio soltanto perché amico di Giustin. Inoltre, lei sapeva che alcuni avevano usato sussurrare l'abominevole menzogna che in segreto fosse sua amante. Sapeva però che lui si era guadagnato quel seggio, una posizione convalidata dal suo valore. Tra tutti i sottoposti, credeva di poter riporre un po' di fiducia soltanto nei guerriere del caos dalla nera armatura che aveva soldato nella desolazione molto tempo prima del suo ritorno. Avevano giurato di rimanere al suo servizio. Per certi versi desiderava il loro sostegno in quel frangente, ma non c'erano. Quella notte si erano addentrati nelle profondità del bosco a celebrare i loro riti per propiziarsi la macchina demoniaca che equipaggiavano con sangue e anime, approntandola per le prossime aspre battaglie. Gli uomini bestia la osservavano trepidanti. Un emiciclo di volti animali nei cui occhi brillavano un'intelligenza umana e pulsioni bestiali. D'un tratto, Justine fu felice di avere la spada a portata di mano. Lì si sentiva sola, sperduta. Come di consueto, prima di dare inizio al consiglio, provò una sensazione di trepida attesa. Sarebbe successo ora? Avrebbero lanciato la sfida. Justine si chiese quali ordini dovesse dare. Non aveva mai pensato al dopo. I dubbi sorti poco prima ritornarono ancora più forti. Aveva vissuto in funzione della vendetta e una volta che l'aveva ottenuta si sentiva svuotata. Scusami, la mano! Scusate, devo toglierla, mi dà fastidio, pardon. Aveva vissuto in funzione della vendetta e una volta che l'aveva ottenuta si sentiva svuotata. Quando parlava a Kazakital le riusciva facile mostrare fermezza di intenti e sentirsi vuotata alla causa. Il principe demone aveva su di lei un effetto quasi ipnotico, ma in sua assenza subentravano i dubbi. Si chiese se la propria volontà coincidesse con quella del demone. Con la morte di Yugo aveva raggiunto la massima ambizione della sua vita. Spero che si sia sentita fino a qua. Ho tutti questi dubbi soltanto perché ho coronato un desiderio a lungo serbato, si disse. Per sette anni tutte le sue azioni erano state spinte dal desiderio di vendetta. Adesso quel desiderio era svanito. Si era spento insieme alla vita del suo aguzzino. Era inevitabile che lasciasse un vuoto, dopo tutto quel tempo. Si sforzò di concentrarsi, di avvertire la brama di potere e immortalità che si impadroniva tanto facilmente di lei quando era al cospetto del suo patrono demoniaco. Riuscì a evocare soltanto una vaga parvenza. Poteva bastare. Abbiamo mietuto le nostre prime vittime, annunciò con voce ostentorea. C'è una superstite, però. La sua morte è stata decretata. È il nostro signore che ce lo ordina. Dovremmo trovare altri luoghi abitati dagli uomini. Uccidere ancora. Disse Egal. I suoi occhi dorati si guardarono intorno. Che importanza ha un sopravvissuto. Grind batté sulle lastre di pietra la verga ricavata da un femore umano intagliato. Lasciamoli in vita. Danno notizia ad altri. Notizia porta paura. Paura è nostra alleata. Mi mettono sempre alla prova, pensò Justine. Sempre sotto assedio in cerca di un punto debole. Anche le questioni più semplici si trasformavano in piccole schermaglie perché le bestie tentavano di migliorare la propria posizione a scapito degli altri. La loro organizzazione sociale si basava su una gerarchia di forza fisica. Tradire debolezza, qualsiasi debolezza, riduceva il prestigio. Perché è il nostro signore che l'ordina? Perché Kazakital, il rosso prescelto di Korn, dice che dobbiamo farlo? Malor posò gli occhi cineri su Grind e Agal. E perché l'ordina Justine, nostro capobranco? Come osi contestare i ordini di nostro capobranco? Domandò bruscamente Triel e Adagal. Dunque erano voci vere le voci secondo cui c'era della ruggine. Ottimo! Rafforzava la sua autorità. Non contesto il nostro comandante. Contesto necessità di trovare un solo umano quando possiamo trovare molti di più. Sei tanto impaziente di trovare ragazzina perché ieri notte hai risparmiato sua vita. Chi l'ha detto? Disse Triel, troppo bruscamente. Cerchi sfida. Benché la cosa non le importasse, Justine aveva l'impressione che Triel stesse cercando di insabbiare l'episodio. Anche lei aveva risparmiato la vita a una ragazza. Oppure era a questo che alludeva Agal. Le aveva rivolto una critica velata? Non le conveniva lasciar proseguire l'alterco. Se Triel uccideva Agal non sarebbe stato un problema, ma se fosse accaduto il contrario avrebbe perso un fido alleato tra i comandanti delle bestie e dubitava di riuscire a trovare un degno sostituto. Non ci sarà nessuna sfida, disse a bassa voce, ma abbastanza forte da essere udita da tutti i convenuti, se non contro di me. La donanza rimase in silenzio, in attesa di scoprire se qualcuno l'avrebbe chiamata al cozzo delle corna. Justine vide Grind immedirsi le labbra, trepidante. Poi incrociò lo sguardo con Agal. Per un istante l'uomo bestia fu tentato, era chiaro, e resse intrepido lo sguardo mentre nei suoi occhi si accendeva la brama di sangue. La mano si posò sul pomo dell'arma. Justine sorrise, nella speranza di stigarlo a lanciare la sfida. Ma all'ultimo momento l'uomo bestia parve cambiare idea e abbassò il capo. Bene, disse lei, in un tono che non ammetteva repliche. Triel, raduna i tuoi guerrieri e trova la ragazza della chioma simile alla mia. Prendi i segugi, per lustro la regione, trovala e portamela qui. La offrirò io stessa, a casa Kital. Voi altri, assembrate le truppe. Marceremo verso il prossimo villaggio umano e ci faremo onore trucidando gli abitanti. Con un cenno di assenso e approvazione si alzarono tutti per partire. Justine restò sola con i suoi pensieri, domandandosi cosa fare quando lo avrebbero portato la ragazza. E qui mi fermo un po'. Che c'è parichiacciato da leggere e tanta carne l'abbiamo messa al fuoco con questa lettura. Scusatemi fra l'altro per la mano davanti. Certe volte, quando leggo mi metto così, no? Anche per un attimo di appoggio. Adesso vedete che trema tutto perché mi ho dato una battosta anomala. Sul tavolo. Vi chiedo scusa. Grazie a Tarfa, fra l'altro, per avermi un attimo richiamato all'attenzione con quel punto esclamativo camma. Vi leggo un attimo, ragazzi. Vi leggo un secondo. Matrix due settimane fa. Interessante, Rimi. Interessante, va bene. Mi sa che Gotra che le fa il culo, ma Gotra fa il culo un po' a tutti. Però lei è un personaggio molto interessante, ragazzi. Mi sta piacendo non poco. Non poco. Non devi temere il congiure, dice Matrix. Sono abbastanza idioti da sfidarsi davanti a tutti. C'è stato profilato davanti a noi qualcosa di un po' diverso. Proprio ora. È stato molto bello anche questa caratterizzazione dei personaggi gore. Sono tutti gore questi. Sono nella gerarchia degli uomini bestia quelli che hanno un peso maggiore, dato che all'interno dei branchi bercianti le corna stabiliscono il potere del singolo. E Iungor, per intenderci, sono quelli con le corna piccolissime. Sono gli ultimi degli ultimi nella loro gerarchia. Mentre i capi branchi più grossi hanno palchi di corna molto imponenti. I Minotauri, ad esempio, sono molto rispettati pur non avendo la stessa brillantezza magari che possono nutrire altri uomini bestia. Perché comunque gli uomini bestia spesso volentieri si danno per degli stupidi, diciamo, sanguinari alla ricerca di morte in continuazione. Che in buona parte è anche vero, non vi dico di no. Ma non sono così tanto stupidi come si possa in realtà pensare. Ecco, quindi. In berbe a genere umano lei è umana, esatto. Però non è in berbe, è una donna con la barba. What? Va bene. Non ti preoccupare, Tarf, per l'essere cattrati. Adesso vediamo un po'. Sapevo contare fino a 5 e decidere venere al blu. Esatto, Matrix, proprio in associazione a quello che stavano dicendo. Buonasera, Giacomo, ben arrivato. Vado a mangiare, Matrix, buon appetito, buona pappa. E Giacomo, come va? Tutto bene. Un po' smangiucchiata, ma sì. Ok, va bene. Scusatemi di nuovo nel caso per questo mio... Chiamiamolo tic, perché alla fine mi contiene. Solo molto di mettermi così. Non è perché sono svogliato, ma perché sono assorto nella lettura. Ve lo dico in maniera molto tranquilla. Mannaggia la mia connessione che ci mette una vita a caricare. Spero non sia troppo limitante. Giacomo, mi dispiace. Cavolo. Mi dispiace che ti perdi magari la lettura. Spero di no, ovviamente spero di no. Stupido bovino, se il demone comanda e legge a morte. E lei è la prescelta comunque, ragazzi. C'è molto rispetto, devo dire. C'è molto rispetto all'interno del branco. Riecco il Tuff da PC. Bentornato, Tuff. Quindi i Saigor sono degli dei per loro. Eh, diciamo che i Saigor comunque sono un po' differenti. Nel senso, hai presente quello che ho appena detto sui Minotauri, nonno? Parlo con tutti, ovviamente, come sempre. Più grossi, certo, con palchi di corna, eccetera. Però, in sostanza, mancano poi di quell'intelligenza che gli uomini bestia hanno. È un'intelligenza loro, diversa, differente, però ce l'hanno. E diversamente queste bestie più grandi peccano parecchio. Sono molto rispettate e anche apprezzate e temute all'interno dei gruppi, dei branchi bercianti. Ma non hanno quella, diciamo, tendenza a prendere il comando come magari ce la possono avere i normali gore. Che poi diventano magari capi branchi, ecco. Ce ne sono tanti, 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 tanti. Anche famosi. Tutto bene a parte la mia connessione del cavolo. Purtroppo la connessione è quella. Spesso e volentieri ci si può fare anche molto poco. Se non tartassare di chiamate ai servizi clienti e rompere le balle. Ah, però, vedi, Tarf, c'è una cosa interessante perché è interessato ai videogiochi. Lo dico così a titolo informativo. Che dal 19 su Epic un giorno gratis per 12 giorni, ogni giorno. Io non ho Epic e non penso scaricherò niente anche perché non ho tempo per giocare. Però va bene, in sostanza può essere interessante per tanti altri e ti ringrazio, Tarf, per la notizia. Riscatti un giorno, giorno per giorno e restano per sempre. Si può sempre fare. Si può sempre fare. Quello è come su Steam quando mettono in un gioco gratuito. I Saigor sono gli emissari di ciccio benzina, esatto. I Sigor, o Saigor. Qui è un po' come Sinic e Sainic. È un po' il dilemma della vita. Poi scopri che è Sigor e ti spari nei testicoli. E a quanto pare sì, Materix. Anche gli uomini bestia hanno intrighi, diciamo, all'interno delle loro dinamiche che sono di base semplicistiche e basate, sì, sulla forza, sull'essere degni di portare il comando verso nuovi ecidi e mattanze. Però ce l'hanno anche loro. Un popolo rude, stupido, ma inarrestabile. Ma si nasce Gora e ci si evolve. Da che ricordo adesso? Perché la storia degli uomini bestia è una cosa che dovrò riguardare anche presto. Perché sperando di riprendere una certa costanza con i video lore fantasy ci arriviamo agli uomini bestia perché sono probabilmente loro a seguire i trucchi nelle origini. Quindi ti dirò meglio più avanti. Ma io, se ricordo bene, sì. Nel senso che si nasce tutti Gora, in buona sostanza. Poi i figli di Gora tendono a far più fatica a salire. I figli di Angor fanno più fatica. I figli di Gora nascono già con una crescita probabilmente migliore delle Korn. Into the Bridge Non lo conosco. Va bene, va bene, nonno. Lasciamo, lasciamolo lì, lasciamolo lì. Io l'ho letto, ma lo lasciamo lì. Va bene. Allora, poi vi farò sapere meglio per quanto riguarda gli uomini bestia. Perché io sinceramente credo che ci sia differenza. Però alla nascita non mi ricordo se sono tutti con le stesse tipologie di corna. Le mie conoscenze veterinari mi direbbero No. Cioè, nascono tutti con le corna piccole. Non possono nascere con le corna grosse già da piccoli. Però questa è una cosa che mi sfugge attualmente nella memoria. L'andrò a rivedere. L'andrò a rivedere e vi faccio sapere. Ovviamente se me lo ricordate meglio, perché poi nella prossima live, nel caso, me lo dite. Ogni gore è bella mamma suvia. Ovviamente sì, ovviamente. Lo dovete mettere. Cioè, come se, so, nasce un gore un po' deformato, un po' bruttino. Eh, cosa fai? Dici no, questo non lo voglio. Eh. Cioè, in effetti succede di questo. Perché spesso e volentieri nascono figli uomini bestia anche a coppie umane. E le mamme, ovviamente, cosa fanno? Li abbandonano perché poi se... Si viene a sapere che hai avuto un figlio gorra, o an gore, insomma, uomo bestia. Sei un po' nella cacchina, nel senso... Potresti anche finire sul rogo. È abbastanza pericoloso come segreto da mantenere. Però si mantiene per il bene tuo, più che altro. Se non vieni tradito da qualche vicino di casa, da qualche membro della famiglia stessa. Si sa mai, eh. Il Vecchio Mondo non è un bel posto dove vivere. È un po' come l'universo di Warhammer 40.000. Anche il Vecchio Mondo è un posto abbastanza tetro, triste, maledetto. Io non ci voglio vivere nel Vecchio Mondo. Per quanto apprezzi il Vecchio Mondo, per quanto ami la saga narrativa gigantesca, che è una saga sostanzialmente frammentare, tutte le sue aspette di diverse razze, eccetera. Però non ci andrei a vivere. Bel posto, eh. Ma non ci andrei in vacanza. Finisco male io, dici, Materix? Secondo te finisci male? Nel senso, io finisco male. Nel Vecchio Mondo. Ma magari il Vecchio Mondo, Tuff. Divertiti tu. Io non ci vado. Sto tanto bene dove sto. Mi dispiace, ragazzi, deludervi nel caso. Non so se vi immaginarate, non so, uno Stefano Avventuriero a cui magari... Cioè, a me piace andare per boschi, nature, eccetera. Io ci sto anche tanto molto molto bene. Mi diverto molto. Ma non nei boschi del Vecchio Mondo, mai. No, no. Neanche nelle città del Vecchio Mondo. Forse ancora peggio. Sì, sì. Va bene, Tuff. Ma com'è quel detto? Com'è che faceva? Più sono grossi, più fanno rumore quando cadono. Mi sembra di sì. La regia mi suggeriva... Sì. L'altro, come dire, non c'è più. Triste. Ma sta per tornare. Nonno. Tu non hai idea di quello che posso fare in armatura. Neanche tu hai idea di quello che può fare un guerriero del caos in armatura. Riprendiamo la lettura. Da dove ci eravamo lasciati. Pagina 218, signori. Gotrak e Felix. Felix si destò a fatica, la mente avviluppata in un sudario di sogni inquieti. Scuotendo il capo per schiarirsi le idee, sentì un dolore al collo e alla schiena, dovuto alla notte trascorsa sul freddo terreno della foresta. Il gelo si era insinuato nello strato isolante di foglie e lo aveva prosciugato di tutte le forze. Si alzò lentamente in piedi, stropicciando gli occhi impastati di sonno. Facendo meno rumore possibile, sguenò la spada e si guardò intorno. Gotrak stava lì accanto. Una statua tozza e massiccia, immobile al fiocchio chiarore delle fiamme che languivano. Il bagliore rosso dei tizioni si rifletteva sulla lama dell'ascia. Il nano brandiva un'arma di sangue. Felix guardò il cielo. Le lune erano quasi tramontate. Perfetto. Mancava ormai poco all'alba. Che cos'è? Domandò. Le parole gli morirono in gola, fuoriuscendo in un rocco a sussurro. Capiva benissimo che qualcosa non andava. Anche senza osservare la posizione vigile del nano. Sul bosco aleggiava un'atmosfera di silente minaccia che persino lui riusciva ad avvertire. Ascolta! Felix ubbidì, aprendo bene le orecchie per cogliere il minimo rumore inconsueto. Dapprima non udì altro che il martellare del suo cuore. Non sentiva nulla di strano, soltanto il frenire degli insetti notturni e il crepitare sommesso delle foglie. Poi, da un punto molto lontano, tanto debole da poter essere soltanto il frutto della sua immaginazione, arrivò un sordo brusio di voci. Voltatosi, osservò lo sventratore. Gotrkannui. Felix si guardò intorno in cerca di Kat. Si era svegliata anche lei e sedeva tutta rannicchiata accanto al fuoco. Alla luce delle fiamme, i suoi occhi parevano enormi, colmi di paura. Felix pregò che il sole sorgesse presto. Dando le spalle al fuoco, scrutò le tenebre. Deciso a non voltarsi più, per evitare che le fiamme gli impedissero di vedere al buio. Kat mette altra legna sul fuoco, disse a sottovoce. La tentazione di aggirarsi per controllare se stesse obbedendo era quasi irrefianabile. Felix resistette e provò sollievo quando sentì un movimento alle spalle e il crepitio delle legne che si accendeva. Il fuoco mise in fuga le ombre e l'isolotto di luce nel quale si trovavano divenne sempre più grande, sino ad abbracciare i dintorni della foresta. A quel fioco bagliore, gli alberi somigliavano a creature titaniche e monocrome. Felix restò completamente immobile, malgrado il freddo, il sudore gli colava lungo la schiena e inumidiva i vestiti. Aveva i palmi viscidi e gli sembrava che le forze gli stessero avvenendo meno. Provò un impulso irrefrenabile di fuggire da chiunque si stesse avvicinando. E qualcuno si stava avvicinando sul serio, senza darsi la pena di camminare furtivamente. In lontananza, Felix riusciva a sentire alcuni pesanti passi e un breve guaito, come di dolore. I muscoli dello stomaco erano contratti e le budelle attorcigliate da un palpitante senso di agitazione. L'incedere in cauto dei nemici tradiva un'inarrestabile sicurezza. Stava per incontrare i distruttori di Kleindorf. Stranamente, iniziò ad avvertire il bisogno di avanzare nella direzione del rumore, di andare in ava scoperta, senza restare accanto al fuoco come una pecore in attesa di essere sbranata. Per distendere i nervi, provò a vibrare uno o due colpi con la spada incantata dall'essa a forma di drago. Fendendo l'aria, la lama si bilò. Le rune incise si fecero più luminose, quasi pregustassero lo scontro imminente. Lo sciogliersi dei muscoli e la prontezza della spada riuscirono a tranquillizzarlo un po'. Un sorriso affiorò sulle sue labbra. Se avesse perso la vita in quel luogo, anche altri sarebbero morti insieme a lui. La valdanza scomparve quando, nella foresta, una canea di ululati proruppe trionfante da una decina di gole bestiali. Nel chiarore antelucano parevano echi fuorusciti dei suoi incubi. C'erano degli esseri là fuori, che Felix non desiderava affrontare. Gli inseguitori sapevano di essere ormai vicini ed erano pronti ad avventarsi sulla preda. Felix avrebbe voluto mollare la spada e darsela a gambe. Le forze defluirono dal corpo come vino da un calice. Alle sue spalle sentì Kat piagnucolare. Poi, un movimento furtivo, come se la ragazzina stesse cercando di soppiato un nascondiglio. Nervi saldi, obuncolo! Fanno così, per spaventare i nemici e indebolirli prima di colpire. Non lasciarti dominare dalla paura. La voce quieta e tonante di Gotrek riuscì quasi a rassicurarlo. Ma Felix non poteva fare a meno di pensare che, in ogni caso, per lo sventratore sarebbe stato un successo. Avrebbe sgominato i nemici, oppure, più probabilmente, trovato una morte eroica. Era arrivato il momento di fargli notare che, se lui non fosse sopravvissuto, non sarebbe rimasto più nessuno a tramandarlo. La comincità di quella situazione lo fece ridacchiare. Poi sentì avvicinarsi lo sventratore. Gli inseguitori erano quasi su di loro. Felix riusciva a sentire lo strascichio dei piedi sul sentiero polveroso. Non potevano distare più di cento passi. Si guardò intorno per cercare un riparo. Sotto l'albero più grande c'era una macchia di cespugli. E Felix si domandò se fosse il caso di nascondersi e tendere un agguato. O magari restare immobile e sperare che la progine del caos non lo scoprisse. Nel suo caso, però, era un esile speranza. Accendando al roveto con la punta della spada, sussurrò. Kat, nasconditi lì. Se succede qualcosa a me o Godrek, non uscire. Fu contento di vedere la piccola figura raggiungere di corso il cespuglio, buttarsi a terra e sgusciare nel sottobosco. In quel modo, aveva una possibilità di salvarsi, se loro due fossero caduti. Come hanno fatto a trovarci? Si domandò. Era soltanto sfortuna. Si trattava di una semplice squadra di esploratori che le aveva scoperti per caso. O forse una malvagia stregoneria tramava contro di loro. Impossibile a dirsi. Se c'era di mezzo il caos. Per un istante, Felix volle immaginare che si trattasse di un equivoco. Era una carovana di mercanti che avrebbe dato loro asilo. Sapeva però che soltanto i morti o gli assassini si sarebbero incamminati di notte lungo la strada che proveniva da Kleindorf. E quel pensiero lo fece rabbrividire. Ormai il trapestio era tanto vicino da convincerlo che gli inseguitori si sarebbero mostrati di lì a poco. Felix si augurò che le lune al tremonto riuscissero a liberarsi dalle nubi, emanando più luce. Come se Sigmar avesse accolto la sua supplica, uno squarcio si aprì nella coltra di nuvole. Felix si pentì a distante. L'argentia a luce spettrale di Maslib si univa allo splendore sanguigno della luna malvasa, Morslib, e trapelava a fiotti dagli spiragli delle fronde illuminando i volti degli inseguitori, creature abberranti fuoriuscite dalle streme lande selvagge dei suoi incubi. In testa c'era un mutante al guinzaglio che fuitava il sentiero accucciato al suolo. Era stato lui a emettere quello strano respiro rumoroso che Felix aveva sentito. Il volto canino e nasuto era privo di pelo. Un collare chiodato, serrato attorno al collo, era legato a una pesante catena d'acciaio, la cui estremità era impugnata da un'enorme besta dalla testa caprina. Aveva muscoli arculei e sulle spalle indossava un mantello di pelle. Al collo portava una collana che pareva composta da occhi disseccati. Non aveva occhi propri, ma soltanto un'inespressiva propaggine di carne al posto delle orbite. Eppure camminava come se vedesse benissimo. Felix si domandò quale maleficio stregonesco del caos lo rendesse possibile. In una mano stringeva una gigante mazza chiudata, imbrattata in punta di sostanze coagulate, sulla cui natura Felix preferì non indagare. Era seguito dagli tirapiedi, esemplari ricavati dalla stessa ripugnante matrice, ma in scala ridotta, giganti di curvi e muscolosi, armati di picche e di spade arrugginite. Dalle teste di capra e di cervo, occhi ferini svolgravano d'odio, infiammati dalla luce del fuoco. A eccezione del capobranco, i loro corpi non recavano segni evidenti di altre mutazioni. Quella vista gli fece accapponare la pelle, e al pensiero di ciò che avevano compiuto al villaggio la notte precedente, Felix fu colto dalla rabbia e dal terrore. Il capitano Guercio si fermò, e con un'enorme mano e un'occhiuta, rivolse un cenno ai seguaci. Questi entrarono alla spicciolata nella radura, disponendosi in un ampio semicerchio davanti all'uomo e al nano. Felix assunse la posizione da combattimento, sforzandosi di rilassare i muscoli come gli aveva insegnato il suo maestro di scherma. Tentò di sgombrare la mente e mantenere la calma, ma era impossibile davanti a quei mostri enormi. Per interminabili attimi, l'uomo e le bestie si scambiarono occhiate e truci attraverso la radura ombrosa. Felix tentò di sostenere lo sguardo del vicino mostro dalla testa caprina. «Ti ucciderò», pensò, nella speranza di intimidirlo. «Le fauci bestiali si spalancarono, lasciando penzolare fuori la lingua. Sulle labbra comparvero bianche bollicine di bava. Pareva si stesse prendendo giochi di lui. Beh, forse è meglio di no», pensò Felix. Voleva guardare Gotra per capire cosa avesse intenzione di fare, ma non osava staccare gli occhi dagli avversari. Temeva che l'avrebbero attaccato con rapidità sovraumana. Era questo l'aspetto peggiore dell'affrontare nemici sconosciuti. Chissà di che cosa potevano essere capaci. Le bestie non si muovevano, come indecise sul da farsi, davanti a due nemici intrepidi. Si scambiavano occhiate, quasi fossero divertite o colte dal dubbio. «Forse stanno decidendo come spartirsi le carni delle vittime», concuse Felix. Gli parva bizzarro che esseri della spregevole nomea di mangiatori di carne umana avessero testa di animali e erbivori. Forse era una beffa delle forze perniciose. «Pronto, mucolo!» Gotrak sembra incredibilmente lucido per essere un berserker in procidio di combattere, pensò Felix. La voce cavernosa era tranquilla, uniforme, priva di ogni emozione. «Mai stato più pronto!» Felix strinse più forte l'elso della spada, sin quasi a provare dolore. I muscoli dell'avambraccio diventarono rigidi, come cavi d'acciaio. Quando sentì la risata folle dello sventratore, si precipitò anche lui contro i nemici. Proseguo. Bevo un goccio d'acqua e proseguo direttamente perché adesso c'è lo scontro. Kat sgusciò sotto i cespugli. Suo malgrado, il fascino dell'orrore la costrinse a guardare di nuovo. Sapeva che le bestie si stavano facendo sotto. Lo sentiva. Nell'aria, aleggiava la stessa sensazione di presenza della notte precedente. Cercò con lo sguardo i suoi benefattori e provò pietà per loro. Stavano per morire. Nonostante il loro aspetto terrificante, avevano provato ad aiutarla e non meritavano di morire nel modo in cui le avrebbero uccisi le bestie. Poi guardò Felix. Sul volto amabile dell'uomo si alternavano espressioni di terrore, di illuso e tripudio sfrenato. Kat lo capiva. Lei stessa aveva provato quelle emozioni quando Carl aveva lanciato il carro a folle velocità lungo la strada di sestata. Era una sensazione di abrivido, un misto di entusiasmo, paura e felicità. L'unica differenza era che Felix non aveva l'aria tanto felice. Il nano invece sì. Il volto belluino era distorto di un ghigno truculento che metteva in mostro la bocca disdentata. Kat era convinta che si fosse accorto di essere osservato perché si volse e strizzò l'occhio nella sua direzione. O non ha paura o è un attore consumato. Tutte e due dimostravano coraggio, seppur in modo diverso, e notando le armi consumate dall'uso, era certa che fossero pro di guerrieri. Le rune della spada di Felix scintillavano di luce propria, come la spada incantata di una fiaba. L'ascia di Gotrek pareva in grado di abbattere un albero con un colpo solo. Ciò nonostante, lei sapeva che non sarebbero servite a nulla. Erano spacciati. Le bestie non avrebbero lasciato il loro scampo. Involontariamente le sfuggì un rantolo quando i nemici entrarono nella radura. Il capitano, la belva che teneva il guinzaglio e il mutante Segugio, era lo stesso che la notte precedente nella locanda le aveva risparmiato la vita. Sapeva che era venuto a cercare lei, lei sola, per riparare a quell'errore. Tra i seguaci c'erano alcune delle bestie che aveva visto scatenarsi al villaggio. Erano tutte imponenti, più alte di Felix e più pesanti di Gotrek. Vedendo i dei guerrieri accanto al fuoco, si rese conto di quanto fosse imparico lo scontro. Uomo e nano contro mostro, in svantaggio fisico e numerico. I due non avevano possibilità di salvarsi. Per un istante restarono immobili, gli uni di fronte agli altri. Avvinta dalla tensione di quella scena, Kat dimenticò le proprie paure e trattenne il fiato. Gotrek stava acquattato come un enorme gargoyle, l'ascia impugnata agevolmente in una mano. Felix stava nella classica posizione della spadaccino, che lei aveva già visto assumere al nobile Ugo durante l'esercitazione di scherma. Ammassate davanti a loro, c'erano le bestie deformi, in pose scomposte e baldanzose, con le armi a riposo. Gotrek attunò. Pronto, muncolo? E Felix rispose, mai stato più pronto. Poi Kat vide lo sventratore scorrere il pollice sul filo dell'ascia, finché sulla punta non luccicò una stilla di sangue. Con una folle risata si lanciò all'attacco. Felix lo seguì, incapace di guardarli mentre andavano a farsi uccidere, chiuse gli occhi. Quindi udì un fragoroso scricchiolio e un unulato di dolore. Il nano ne era certa, il primo a cadere. Poi sentì il metallo tintinnare contro il metallo e asperi gugniti di fatica, seguiti da nove grida di dolore. Anche Felix era morto. Eppure il clamore del combattimento continuò, più a lungo del previsto. Infine i rumori si affievolirono. Sconvolto dal terrore, Kat aprì gli occhi per affrontare il suo destino. Felix si lanciò all'attacco. Davanti a sé vide lo sventratore scartare di lato con un balzo mentre una picca tentava di colpirlo. Godric afferrò l'asta con la sinistra e continuò ad avanzare facendo scorrere la mano lungo l'impugnatura e tenendo ferma la picca mentre si avvicinava. Giunto a distanza di tiro, liberò un colpo d'ascia e spaccò il cranio dell'attonito uonvestia come fosse un cocomero. Si udì uno scrocchio e un grido strozzato di dolore. Ottimo, pensò Felix, un menegramo in meno. Quindi incrociò la spada con una creatura mostruosa armata di scimitarra. La lama tintinnò nell'impatto ammaccando l'acciaio all'arroginito. L'avversario era forte ma privo di tena tecnica. Come dotata di vita propria, la spada magica di Felix si aprì un varco nella difesa della creatura. In una manciata di secondi gli aveva inferto una miriade di piccole ferite sanguinanti. Ruggendo di collera, l'essere attaccò Felix con un fendente che le avrebbe potuto squarciare la metà. Il poeta fece un balzo indietro, difendendosi dell'impazzata. Nel contatto le lame sprigionavano scintille. L'uomo sentiva il braccio indolenzito per la violenza dell'urto. Alzato lo sguardo, fissò l'uomo bestia. Le labbra erano chiazzate di schiuma e negli occhi turbinava la follia. La creatura si scagliò di nuovo contro di lui, roteando la spada in un vorticoso arco. Distinto, Felix la scansò, acquattandosi e fece un passo in avanti, sferrando un affondo. Le calde viscere fuoriuscirono dal ventre della bestia, finendo sulle sue mani. Il nemico indietreggiò con un passo malfermo, una mano a trattenere gli intestini e urlò come un magnale sguzzato. Riavutosi dalla sorpresa dell'attacco, un altro uomo bestia si gettò nella mischia, caricò testa bassa con la picca puntata dietro alla schiena di Felix, ma scivolò sulle budelle del compagno e cadde. Il giovane guerriero rivolse a Sigmar una pergrina di ringraziamento e lo decapitò facilmente con un colpo solo. Poi si volse ruoteando la spada e di del colpo di grazia all'altro. Gotrek aveva eliminato due nemici meno impegnativi e dava battaglia al capitano degli uomini bestia. Il segugio mutante non si vedeva se l'era data a gambe. Osservando il teatro della strage, Felix ricostruì ciò che doveva essere accaduto. Era stato l'assalto repentino dello sventratore con due ampi colpi mortali. Il primo aveva spaccato in due un cranio, il secondo aveva sfondato casse toraciche. La belva senza occhi però era di tutt'alta tempra. L'ascia e la mazza guizzavano davanti e indietro con una rapidità tale da confondere alla vista. Quando scalfì le punte d'acciaio che ricoprivano la testa della mazza, il metallo stella sprigionò scintille. La bestia era più grossa ma anche più lenta. A ogni colpo dell'ascia di Gotrek l'urlo la costringeva ad arretrare. Felix si chiese se fosse il caso di dare manforte al nano, ma decise di non agire. Gotrek non l'avrebbe di certo ringraziato e la possibilità che un colpo dell'ascia lo raggiungesse per sbaglio era fin troppo terrificante da prendere anche solo in considerazione. Rotteando il braccio, la bestia tentò disperatamente di colpire la testa dello sventratore. Arretrando con un balzo, Gotrek si portò fuori tiro e intercettò la testa della mazza nell'incavo della lama dell'ascia. Con una rapida torsione strappò l'arma dal pugno della bestia, rendendolo innocuo. Sul volto del nano era dipinta un'espressione di gelida furia che Felix non aveva mai visto prima d'allora. Nessuna pietà, soltanto rabbia e una determinazione spietata. Gotrek colpì l'uomo bestia alla gamba, facendolo cadere. Il sangue sgorgò dalla ferita che aveva reciso il tendine. La creatura lanciò un acuto strello di dolore e si girò sul fianco. In quell'istante l'antica ascia si abbatté come la scura di un boia. La testa dell'uomo bestia si staccò dal collo e la creatura crollò esami dal suolo. Esamine. Lo sventratore sputò sul cadavere, poi scosse il capo come nauseato. Un gioco da ragazzi, disse. Spero che quel guerriero del caos sia più difficile da ammazzare. Felix si augura di non scoprirlo mai. E mi ritaccio per un po' nella lettura. Questa sera sta andando parecchio bene, al di là del mio pensare male. Sto riuscendo a leggere abbastanza tranquillamente. No, la scorsa volta, ragazzi, vi chiedo di nuovo scusa anche per l'altra volta. Ero parecchio stanco e si sentiva. Non riuscivo a tenere una lettura decente. Vebla, ben arrivato. Ben giunto. Il Kislav tutto ti rende onore e omaggio, compagno. Come va? Tutto bene? Mi recupero un po'. Il mio padre mi diceva più sono grosso più male ti fanno, come questo uomo bestia guercio. E se fosse un guerrero nel caos di Nargo nell'armatura, già più interessante. Già molto, molto più interessante. Ci sono dei uomini bestia in giro, vanno a dormire nella foresta. Beh, no, perché loro c'erano già da prima, comunque, Matrix. Non so, l'altra volta... Sì, no, c'erano già da prima. Sì, sì, c'erano già da prima, ok. Kat fissava il fuoco, dondolava, parlava una lingua strana, i suoi occhi sanguinavano. Vedi che succede ad accogliere gli orfani a Munculo? Ruggì il nano, sfondando il cranio alla bambina con l'ascia. Fine. Non male! Sì, non male, devo dire non male. Ma se erano quelle capre erano già in carica... In che senso? Non ho capito. Ci sono degli uomini bestia attorno a lui, Felix ride. Beh, Felix è una persona che ogni tanto riesce addirittura a non sembrare una mammonetta che si caga in mano ogni due per tre, cosa che farei probabilmente anch'io. Vedi, se c'era Beltran lo sputa bestia, decideva tutti a sputare, altro che Gotrek, a proposito di sputi, l'hai scritto prima, non, non lo so, però ci ha sputato veramente sopra il nostro Gotrek alla fine dei conti. O forse Kat aveva abbiciato gli uomini bestia. Qui ormai, ragazzi, niente, Kat la odiate? Non lo so. La detestate tutti, Kat. Poveraccia. Solo io ancora credo che sia semplicemente una bambina innocua. Veramente. Felix si preparò iniziando a ricordare gli insegnamenti del maestro di schermo a Gotrek scorreggio. Era il segnale. Proto. Alla carica, insomma. Buono così. Anche i soldati della guardia della morte di Krieg avvertano la carica con suoni di scorreggio. Si dice, si narra. Oh, ma che stronza sta bene. Si, in effetti quello è vero. Cioè, povera bambina che gufa come un non so cosa. Però, cioè, è una ietatrice di professione probabilmente. Non ce la sta facendo perché poi c'è Gotrek. Però, si, è abbastanza un po' stronzina. Si, si, si. Un po' gli alatrici, esatto, tiranno sempre. Ma basta! Cioè, poveraccio. Vai Gotrek, spacca lì due, cazzo voi! E l'ha fatto. Non si, non si, niente. Lui, non si deluderà mai questo, questo signor nano. Io sono abbastanza di queste idee ormai. Ma è scema! Lui si è immaginata tutta la scena come se loro avessero perso quando effettivamente ora che l'abbiamo letta è bella anche questa cosa come spediente narrativo comunque sia molto, molto carino. Ci fa vedere due tipi di proprio di visione quella effettiva e quella della bambina opposti ovviamente. Santa Claus è un Chris Levita effettivamente sì. Tra l'altro avevo già raccontato l'anno scorso la storia di Sintra Class vero? Sì. Che è una cosa fan made ma che mi è sempre piaciuta molto Sintra Class dei Blood Angels un Blood Angel scaduto che diventa essenzialmente Babbo Natale dispensatore di doni di Nargol una storia un po' buttata così. Ciao Avatar ben arrivato ciao ciao avatarissimo ben giuntissimo finiamo con i superlativi per favore sì grazie assoluto e come va come va che ci racconti qui a questa piccola ma sempre accogliente corte ovviamente Xino non è vero questo è un saccello per tutti ben giunto ben giunto una bambina innocua nell'universo di Warhammer è impossibile Giacomo lungimirante non posso dirti di no ma non posso neanche dirti che non esistono bambine normali cavolo ci sono anche loro cioè mica sono tutte oh boh vicine al caos o che ne so vampire dai ragazzi dobbiamo crederci ogni tanto anche che esiste il bene in questo mondo poco ma esiste secondo me i villaggi per colpa di quella maledetta tappa boh è stata risparmiata ragazzi probabilmente non so se è un atto solo di di clemenza oppure effettivamente c'è qualcosa in lei che perché l'uomo besta anche l'uomo besta l'ha risparmiata non solo la la Justine la condottiera del caos quindi lei dice umana forse ancora un attacco a quella sua umanità nell'anima nel fondo dell'anima marcia che si ritrova forse ancora c'è un minimo di essere umano vabbè forse si un uomo bestia un po' più difficile che ci sia una cosa del genere però la risparmetta anche lei c'è anche lui manca un gufo sulla spalla quello è vero quello non posso dire di no però se incontrano garad rivia e gotrek se si incontrano fra l'altro la serie arriva domani giusto non mi ricordo ma arriva domani o già arrivata oggi perché se è già arrivata oggi cavolo io devo scrivere non posso guardarla molto bene che ora è fra l'altro 21 e 52 ragazzi penso che leggeremo un altro paragrafetto e poi vi saluto perché appunto vado a scrivere un po' di lore stasera mi vado a dilettare con gli elfi oscuri mi stiracchio anche un po' nel frattempo proprio così quasi come dire con sprezzo comunque in un contro del genere io vedo sempre gotrek che vincitura non so per quanto Geralt sia figo io fra l'altro non ho mai giocato conosco il personaggio ma non ho mai giocato un The Witcher nei reti romanzi però voglio guardare la serie quello lo voglio fare così vi posso dare magari anche il mio punto di vista se più avanti ne parliamo da uno che non ne sa nulla che approccia il diciamo universo di The Witcher con la serie potrebbe essere un punto di vista anche il mio diverso e interessante chissà o magari non me ne frega niente ma questo sguardo è di disapprovazione assoluta più che altro lei si è immaginata la scena più sensata per quel che ha visto ma gotrek leggeva il manga di Berserk a laki lei non poteva sapere che gotrek diciamo se la batte con divinità demoni e tutto quello che vuoi non gli ne frega niente uomini bestia proprio una passeggiata così proprio me ne scibatto io sacrificherei a corn come doveva andare non porto rancore per il mio fratello psp sono sacrificata a me così follia così tanta in questo ciclone di follia vogliamo accadere veramente sei sicuro nonno questo lo dici tu questo lo dico io magari non lo è stai il caos e la via sigmar è uno stronzo aos conferma chiedetelo a nagash fa i suoi interessi nagash uguale nagash però viene un po' giocato quello è vero quello ti do ragione è un pezzo di merda effettivamente sì da questo punto di vista non ti posso dar torto sì perché lo tradisce quindi tradimento di persone se solo su morati no non è giusto perché morati non può essere tradita anche perché se tu te riesci a morati le ti incula con lo stracon capito qual è il problema raga su warplock bronze che lavatura metto non lo so che lavatura puoi mettere un un marrone lavatura marrone ci può stare beh se qualcuno parla di sacrifici grifis sacrificio no spoilerino please penso che ti inculi uguale penso anch'io si fa crescere a lei l'apparato che taro miura povero non ce la farà mai gazzo bello bel personaggio ma al di là di questo al di là di questo signori io mi abbandonerei all'ultima lettura l'ultima parte di lettura di questa serata che dite vediamo un po' dove arriviamo vediamo fra l'altro quante pagine ho letto io sono alla pagina 208 in totale quante altre ne ho parecchie direi eh a voglia si adesso ne leggeremo un'altra 5 o 6 dipende come si interrompe ma ne abbiamo ancora parecchie di riserva sono abbastanza tranquillo per questa sera perchè come detto poi non voglio fare eccessivamente tardi proprio per per poter lavorare anche ai video lore che poi vedrete spero di regalarvi a natale un video lore ci tengo molto se ce la faccio pat pat sulle spalle e se non ce la faccio shame no shame quello non oddio forse anche quello in realtà si è molto molto va bene anche quello si sta molto giusto però shame è l'idea griffish finisce il manga di miura lo finisce griffish allora deve vincere lui per forza ragazzi a gazzo frega un gazzo c'è gazzo sicuramente signori iniziamo e riprendiamo la nostra lettura da dove ci eravamo lasciati a pagina 226 felix trattorellava sul sentiero con le ali ai piedi non era stanco pur avendo dormito poco la notte precedente né intimidito dal paesaggio desolato che stavano attraversando respirò a pieni polmoni assaporando persino l'aria immobile e il tanfo di muffa della foresta perlomeno poteva ancora respirare era vivo penetrando tra le frasche i raggi del sole si riflettevano sui turbini di pulviscolo facendoli danzare come luci fatate aveva voglia di allungare la mano per raccogliere una manciata quasi fossero una sorta di polvere magica per un istante la foresta si trasfigurò i tre camminavano in un giardino incantato dove i funghi alti quasi mezzo metro spuntavano dall'ombra dei grandi alberi in quel momento non avevano un aspetto sinistro ma sembravano una promessa di vita era ancora vivo continuava a ripeterlo tra sé come un mantra aveva attraversato il tunnel del terrore e ne era uscito i nemici i mostri che volevano ucciderlo erano morti mentre lui era ancora vivo con il sole sulla pelle e l'aria nei polmoni e guardava Gotrak e Kat che scendevano il pendio con grande cautela posando il piede ora su questa ora su quella pietra nel fango del sentiero scosceso e sdrucciolevole i sensi si erano risvegliati e Felix si sentiva più vivo più carico di energia di quanto fosse mai stato trovarsi lì era una vera gioia le ragnatele brillavano della rugiada del primo mattino gli uccelli ci inguettavano tutto intorno la foresta era gravida ad un fermento vitale piccoli animali si muovevano nella boscaglia Felix si fermò per far passare una biscia sul sentiero e non gli venne nemmeno in mente di ucciderla quella mattina capiva quanto fosse fragile e preziosa la vita lo scontro con le bestie gli aveva fatto comprendere quanto fosse precario il controllo dell'esistenza e con quanta facilità se ne poteva recidere il filo in quel momento avrebbe potuto ritrovarsi morto stecchito in una tomba anonima o più probabilmente nello stomaco pieno di un uomo bestia a salvarlo erano stati un pizzico di fortuna un grammo di destrezza e l'abilità con la spada le cose sarebbero potute andare in un modo del tutto diverso un solo errore e non si sarebbe trovato a crogiolarsi in quel mattino radioso ma nel regno brumoso e tetro di Mor a vagare in eterno o nell'oblio che secondo alcuni saggi era l'unica cosa ad attenderci dopo la morte sapeva che quel pensiero avrebbe dovuto terrorizzarlo eppure non era così al momento era troppo felice nella mente ripeteva ogni colpo sferrato in battaglia ricordava ogni mossa con un sentimento prossimo all'adorazione aveva il morale alle stelle si era misurato con nemici invincibili e si era dimostrato più forte quel giorno la foresta non riusciva a spaventarlo tuttavia sapeva anche che quella sensazione era artefatta in molte occasioni dopo una battaglia aveva provato qualcosa di simile presto sarebbe svanita lasciando il posto a un senso di colpa e di orrore per le proprie azioni ma per ora poteva evitare di pensarci fu costretto ad ammettere che per qualche strana ragione si era divertito a combattere la violenza che aveva risvegliato in lui qualcosa di oscuro che solitamente dissimulava persino a se stesso per un attimo gli parve quasi di comprendere le ragioni dei seguaci di corn il dio del sangue schiavi dei massacri delle battaglie del furore guerresco non c'era nulla di più elettrizzante che mettere a repentaglio la propria vita né posta più alta a eccezione forse della propria anima questo pensiero lo bloccò era chiaro che i suoi ragionamenti l'avevano trascinato sulla via del peccato forse coloro che si lasciavano corrompere dalle forze perniciose avevano iniziato così compiacendosi del proprio lato oscuro aveva visto dove conduceva quella strada così lasciò che i suoi pensieri cambiassero direzione di fronte a lui Gotrek si chinò per esaminare alcune tracce nel fango forse ipotizza Felix anche lui è schiavo delle battaglie che fosse questo il motivo per cui seguiva quella insolita vocazione che fosse spinto da un desiderio di gratificazione personale quanto da quello di espiare i peccati commessi forse giustificare altrimenti la scelta di una vita tanto bizzarra che concedeva su strade tanto oscure forse i fini dello suo entratore erano meno nobili e drammatici di quanto desse a vedere Felix sospirò non l'avrebbe mai scoperto il nano sfuggiva alla sua comprensione era figlio di una società diversa che aveva un diverso codice etico e forse persino una diversa concezione del mondo percepito attraverso sensi diversi sospettava che non sarebbe mai riuscito a capire Gotrek ogni volta che gli pareva di esserci quasi arrivato qualcosa gli sfuggiva il nano era forte quanto Felix non avrebbe mai potuto sperare di diventare coraggioso ai limiti della follia e a quanto pareva indifferente al dolore e alla stanchezza era per questo che Felix lo seguiva perché nutriva ammirazione e voleva diventare come lui aveva avere la sua sicurezza e la sua forza se Adaldorf in quella notte ebbra non avesse giurato di seguirlo avrebbe condotto senz'altro una vita molto diversa o forse sarebbe solamente stato più felice d'altro canto però non avrebbe visto nemmeno la metà di quello che aveva visto nel bene e nel male talvolta gli pareva quasi che lo sventratore fosse il suo demone personale mandato dagli infari per sconvolgere la sua vita e condurlo verso l'oscurità Felix scese ad agio lungo il pendio controllando dove metteva i piedi e sentendo le dure pietre sotto le fini suole degli stivali di cuoio raggiunto il fondo valle vide ciò che Gotrek e Kat stavano osservando il sentiero si bilforcava sulla strada a destra c'era un cippo con la consueta lastra di pietra che contrassegnava le vie maestre dell'impero ma un semplice blocco di legno ricavato dal tronco di un albero Felix lesse l'iscrizione tra circa due ore arriveremo a Flesburg quindi disse sei ancora in piedi sei ancora in piedi omuncolo ribattì Gotrek sputando a terra vorrei essere coraggioso come te Felix disse Kat Felix esaminò la radura tra i pochi alberi c'erano tracce dell'attività dei boscaioli il fondo della foresta era disseminato di ceppi attorno ai quali casceva una vegetazione intricata qui e là spuntavano giovani alberi nell'aria alleggiava il fresco profumo della legna appena tagliata e in lontananza gli pareva di sentire il rombo di un fiume in alto tra gli squarci delle fronde il cielo era luminoso di un azzurro terzo a oriente però si vedevano avvenzarsi enormi membri minacciosi le nubi temporalesche rotolavano l'una sopra l'altra massicci arnanti e vaporosi sempre più vicini un altro fosco presagio felix abbassò lo sguardo sulla ragazza il volto nero di fuligine aveva un'espressione seria che cosa hai detto vorrei essere coraggioso come te felix rise di quelle parole c'era qualcosa nella sua schiettezza nell'evidente desiderio di risultare simpatica che lo commosse io non sono coraggioso invece si è stato coraggioso combattere contro le bestie è un gesto da eroe delle fiabe felix tentò di immaginarsi nei panni di un eroe protagonista di una delle saghe che tanto aveva amato da ragazzo un Sigmar o un Oswald per qualche motivo non ci riuscì si conosceva troppo bene quelli erano uomini senza macchia simili agli dei in effetti Sigmar era poi diventato un dio la divinità protettrice dell'impero che egli stesso aveva fondato uomini come loro non conoscevano la paura né l'incertezza o la corruzione avevo paura stavo solo cercando di salvare la pelle io non sono coraggioso ma Gotark si la bambina scosse il capo con enfasi certo ma lo sei anche tu hai combattuto anche se avevi paura ecco perché sei coraggioso era tutta seria Felix era divertito e non poco lusingato è la prima volta che qualcuno me lo rinfaccia Kat si voltò e mise il bronzo pensando che si stesse prendendo gioco di lei beh io lo penso lo stesso non importa quello che dicono gli altri raddrizzate un poco le spalle Felix si strinse bene nel mantello sdrucito che strano ormai era abituato a vedere Gotark nei panni dell'eroe di un racconto epico quello che avrebbe dovuto scrivere in morte dello sventatore prima di allora non aveva mai immaginato di poter avere una parte nell'opera si era sempre considerato uno spettatore invisibile un cronista della gesta del nano ignorato dalla storia forse la bambina non aveva tutti i torti forse doveva dedicare un piccolo spazio anche alle proprie avventure la saga di Gotark e Felix no in viaggio di Herod Felix Jaeger già riusciva a figurarselo un volume rilegato in pelle stampato nel nitido carattere gotico con uno dei torchi tipografici di suo padre ovviamente l'avrebbe redatto in rexpil doveva essere un'opera rivolta al grande pubblico il classico lingua di eruditi avvocati e sacerdoti era troppo pomposo forse avrebbe avuto successo in tutto il mondo conosciuto e lui avrebbe conquistato la popolarità di Detlef Sierk o persino del suo Motarradash nel volume avrebbe incluso tutte le innuverevoli peripezie vissute l'eliminazione della set della notte di Gainsnacht le schermaglie con i cavalcalupi nei territori dei principati di confine gli antefatti al massacro di Forte Vondier le pericolose spedizioni nelle oscure profondità del mondo gli scontri con l'uomo cornuto e il viaggio nelle catacombe sotto Adorf poi tentò di immaginare come avrebbe descritto se stesso ovviamente coraggioso leale e umile quasi subito la realtà iniziò a imporsi sulle fantasticerie coraggioso forse aveva aveva affrontato qualche situazione terrificante facendosi onore leale di sicuro se fosse rimasto sino all'ultimo con lo sventratore umile improbabile come si può definire umile un uomo che si intromette nella saga di qualcun altro a conti fatti forse quell'idea non era tanto brillante meglio dare tempo al tempo se gotrick è un eroe e tu no perché viaggi con lui perché fai domande tanto spinose piccina domandò felix sperando che lo sventratore non sentisse gotrick si era addentrato nella radura assorto in cubi pensieri una domanda spinosa pensò felix perché seguiva lo sventratore la risposta più semplice era perché l'aveva promesso aveva prestato giuramento in quella notte ebra dopo che gotrick l'aveva sottratto dagli zoccoli della cavalleria imperiale l'onore lo vincolava al mantenimento della promessa era in debito con il nano perché gli aveva salvato la vita all'inizio aveva pensato che fosse questo il motivo per cui era rimasto al fianco di gotrick ma ormai si era fatto un'altra idea il nano gli aveva offerto un ottimo protesto per andare all'avventura vedere terre lontane e oscure creature tutte cose che lo interessavano gli davano emozioni sarebbe potuto restare a casa e diventare un grigio mercante come otto suo fratello maggiore non aveva mai avuto quella vita voluto quella vita però e si era sempre ribellato l'impresa dello sventratore gli aveva fornito una scusa per allontanarsi da aldorf una scusa che aveva usato per giustificare il desiderio di andarsene comunque da allora aveva vissuto una vita straordinaria non molto diversa da quella dell'eroe di una saga se avesse interrotto i suoi viaggi con gotrick non avrebbe più saputo che fare non riusciva proprio a immaginare di riprendere la vita di un tempo che il cielo mi fulmini se lo so disse infine felix e qui mi fermo per cui